Questo è il terzo anno in cui abbiamo avviato questa collaborazione con WL. In realtà la nascita di K-Sport nel mondo del basket sale da 20 anni fa e proprio con la lungimiranza del prof. Venerandi, sempre preparatore storico della WL, che 20 anni fa ci diede fiducia quando eravamo alle prime armi nello sviluppo di questa tecnologia. Ad oggi siamo riusciti a realizzare, a completare il progetto ormai da qualche anno nel basket dove collaboriamo attualmente sia con la Nazionale che con diversi club di Serie A1. E forniamo questa maglietta sensorizzata che consente di rilevare in tempo reale l'elettrocardiogramma dei giocatori con una serie di parametri che quantificano i volumi che i giocatori vanno a coprire durante l'allenamento in termini di accelerazioni, decelerazioni, salti e quant'altro. Anche diverse novità visto che comunque è sempre più accessibile a tutti. Sì, diciamo che una svolta per K-Sport a livello aziendale c'è stata a gennaio di quest'anno quando il Fondo Italiano Rialto di Milano è entrato nel capitale sociale cercando di spingere l'azienda verso due direzioni. Una è l'internazionalizzazione e secondo quello di lanciare un prodotto rivolto ai fans, quindi agli amatori quindi con una tecnologia simile a quella che usano i professionisti che consenta ai fans e agli amatori anche di comparare i dati che possono raccogliere nelle loro partitelle amichevoli e nei loro allenamenti con quelle dei professionisti. Essendo nati in Italia, noi siamo qui a Pesaro, siamo a Basket City ma chiaramente ci siamo molto evoluti nel calcio e attualmente per esempio in Serie A tra le società professionistiche, tra A, B e C su 100 squadre, un'ottantina utilizzano le nostre tecnologie. Lavoriamo con il Real Madrid, con l'Al-Nasar di Ronaldo piuttosto che con la Nazione Argentina. L'obiettivo è stato quello di applicare le tecnologie recenti di intelligenza artificiale per la valutazione della performance dell'atleta e qui la Lega di Serie A è stata lungimirante in quanto già dal 2015 e abbiamo un contratto di esclusiva per i prossimi 5 anni assegnerà il premio MVP, quindi di miglior giocatore mensilmente a fine stagione sulla base dei dati calcolati dai nostri algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi è la prima volta al mondo che un sistema automatico sostituisce anche valutazioni giornalistiche.